Siamo partiti forti, siamo partiti sopra 1 a 0, poi nel momento in cui stanno forse costruire un po' più d'oro, sono riusciti a fare il pareggio subito dopo il 2 a 1, abbiamo un attimo staccato la spina, poi nel calcio a 5 e farsi subito sotto. Probabilmente deve avere inciso la stanchezza del giorno che c'è stata la selva, su di te, su Schirrut, perché si è rifugiato dal bagno e scappato, per non farsi inquadrare. Chiero si è scappato? Probabile, però anche loro erano tutti al torneo, quindi forse più che altro ne eravamo più corsi in rosa, quindi forse... più quelli. Noi ragazzi, sono in bocca al lupo, scusatemi che è giudicato, non è facile. Noi ragazzi, in bocca al lupo, vede pure. Grande tigre! Grande tigre! Grande tigre!